Ciao amici, Seven Wonders Duel, il gioco per due persone di Asmodee, ovviamente ispirato dal suo progenitore Seven Wonders, ma da cui si discosta particolarmente, adesso vediamo perché, a chi è rivolto questo gioco, che è stato anche, ho visto, giocato e consigliato da Kamiok, è rivolto ovviamente a, credo, tendenzialmente coppie, ok? Di qualsiasi orientamento sessuale, vorrei specificare, o famiglia, in famiglia si può giocare a qualcosa del genere, magari tra fratelli, altrimenti ecco, ovviamente se voi avete un gruppo più numeroso, già da tre persone, il Seven Wonders normale è più che sufficiente. Cos'altro a dire su questo gioco? È un gioco molto carino. Come si gioca? Allora, vi do un indizio e capite anche, magari, quali sono i punti un po' di diversità, se conoscete già il Seven Wonders original. Allora, si devono creare queste strutture qui, con le carte, ok? In base all'epoca, perché è un gioco che si basa ovviamente su avanzamento tecnologico in base all'epoca e potenziamento delle strutture. A turno si sceglie una di queste carte, che hanno vari poteri, possono essere poteri militari, scientifici o di produzione di materie, o vi danno punti di vittoria alla fine. Si va avanti, si termina la prima era, si cambiano le carte, si passano alla seconda era, che hanno colori diversi, come vi faccio vedere anche adesso. Ok, queste qui sono le carte della prima era. Questo colore. La seconda era sono così. E terza era, adesso queste qua sono le gilde, terza era sono cosa? Rosine. E niente, lo scopo ovviamente è fare più punti dell'altro giocatore. In questo caso, come vi dicevo prima, quindi se conoscete già il gioco base, siete avvantaggiati per due cose, principalmente, secondo me. Uno è, vabbè, sapere un po' qual è la potenza dell'avanzamento delle strutture, no? Sapete che ci sono delle strutture che, se voi avete la precedente e non pagate, se è andata avanti, quello che mi aiuta molto strategicamente. E l'altro è conoscere i costi delle carte, saper contare rapidamente i costi delle carte, che altrimenti è un meccanismo un po' ostico del gioco all'inizio e nelle prime partite. Due cose, invece, secondo me sono molto diverse, in questa edizione base, quantomeno, sempre confrontato alla base del padre, che sono la scienza e il militare, che sono, ecco, due ruoli che già nel base a me non piacevano molto. In questo caso, ok, hanno aggiunto questa particolarità, cioè la vittoria per scienza e la vittoria per dominio militare, che sono molto interessanti perché in ogni punto della partita, anche se voi state stravincendo su tutti i fronti, dovete stare attento che l'altro giocatore non vi sovraste in questi due, altrimenti vince immediatamente. Quello è sicuramente molto interessante. Però, ecco, sono due meccaniche così. Ci sono, esistono, potevano essere sfruttate un po' meglio. Il gioco costa circa 25 euro. So che ci sono varie espansioni, ma purtroppo costano più del gioco base. È una roba che non riesco proprio a concepire. Non so perché, non so neanche come siano, come qualità, diciamo. Comunque sì, il gioco è consigliato, assolutamente sì, soprattutto se avete una donna, una donna intendo, compagna, barra compagno, con cui volete litigare, perché sono quei giochi molto brevi, molto rapidi, dove un giocatore è palesemente più bravo dell'altro e quindi si litiga come se non ci fosse un domani. Compratelo, assolutamente. Poi magari parleremo anche di altri giochi per due persone, che sono comunque, sì, adesso vi faccio questa cosa che forse avrei dovuto dirvi all'inizio. Sono giochi ovviamente molto diversi dai giochi per... Più giocatori hanno proprio dei principi diversi. E quindi sono proprio una categoria a sé. Non è semplicemente prendere un gioco e cambiare le regole per giocarle in due, ma è proprio riscrivere alcune meccaniche, alcune dinamiche, che altrimenti ovviamente non potrebbero funzionare. Però un altro gioco che è completamente diverso, di cui vorrei parlarvi certamente è questo, che invece è un wargame per due persone. Molto bellissimo. Molto, molto bello. Però ne parleremo poi. Anche questo è proprio una categoria completamente diversa. Fatemi sapere se conoscerate già Seven Wonders Base, se giocate mai ai giochi in due persone, perché non so effettivamente che pubblico abbiano. Però evidentemente c'è, perché ne esistono vari. Fatemi sapere se lo comprerete, se non lo comprerete, se avete provato le espansioni e come sono, perché io non le ho ancora comprate, perché costano troppo. Cioè, troppo rispetto all'essere un gioco per due persone, ecco. Ah, no, volevo dirvi un'ultima cosa. Piccolo problema di Seven Wonders Duel, che è anche lo stesso problema di Seven Wonders normale, è un po' la qualità delle carte. Nel senso che è una carta un po' sottilina, ecco. Non è carta telata o che... e si rovina. Soprattutto se giocate tanto e le partite sono brevi, quindi si possono fare davvero tante partite. Quando iniziate a mischiare un po' tanto, iniziano ad attaccarsi le carte, si rovinano. Bisogna comprare certamente delle bustine. Quindi quello tenetelo in conto, esistono, con le misure corrette, compratele immediatamente. Purtroppo hanno questo problema un po' i Seven Wonders. Un giorno parleremo anche di Seven Wonders grande, sì, ma non ce l'ho, è molto bello, ma non ce l'ho. Comunque sì, fatemi sapere tutto quello che vi ho detto prima. Spero che abbiate capito che questo è un ottimo gioco per due persone. Noi ci sentiamo alla prossima, ciao!